Verso sud, per unire il paese, è il tema che le acli campane scelgono per fotografare la risalita del mezzogiorno, storicamente un'altra Italia. Il ministro provenzano, annunciato in locandina, è impegnato su altri fronti, l'associazione chiede comunque per equazione, perché anche i CAF al nord sono maggiormente sovvenzionati. Le ricette per lo sviluppo sono diverse, a seconda dei relatori, lo storico delle emigrazioni Ricciardi restituisce il quadro per l'Irpinia e lancia la provocazione. Il presidente di Fondazione Sud, Carlo Borgomeo, sintetizza negli investimenti su giovani e scuola una nuova visione di assistenza per il sud. Grazie. 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 Grazie.